Un volo tremendo da circa 7 metri di altezza e l'impatto violentissimo a terra. Il duplice infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 all'interno della Cartotecnica Veneta nella sede operativa di Via Postumia nella zona industriale di Carmignano di Brenta. Nell'incidente sono rimasti gravemente feriti due dipendenti di altrettante aziende esterne impegnati nei lavori di realizzazione di un impianto termoidraulico sulla copertura del capannone. E' in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte a causa di un grave trauma cranico un operaio di 30 anni di San Zenone degli Ezzelini ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova dove è arrivato con l'elisoccorso. Meno grave la situazione dell'altra ferita una donna di 45 anni di mussolente che ha riportato varie fratture agli arti inferiori, anche lei trasportata in elicottero ma al caffoncello di Treviso. Il giovane lavora alle dipendenze di una ditta di San Zenone, la 45enne invece per un'azienda di impianti di Borso del Grappa. I due questa mattina si trovavano sul tetto quando improvvisamente avrebbe ceduto una parte del solaio facendoli volare nel vuoto. Subito è scattato l'allarme come ci spiega il responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione di Cartotecnica Veneta, Mirko Molon. La ragazza era sempre stata cosciente, vigile, si muoveva, braccia, mani e tutto quanto, anche le gambe. Il ragazzo, anche lui, si muoveva però, diciamo, aveva preso, molto probabilmente era caduto in maniera diversa e aveva difficoltà a parlare. Era semicosciente da quello che mi risulta. Infatti io gli continuavo a dire stringimi la mano se capisci quello che dico e lentamente mi stringeva la mano. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Gli ordini di servizio per oggi erano quelli di effettuare degli allacciamenti, diciamo così, interni a capannone, sì che dovevano lavorare a terra o eventualmente in quota contro a battello, diciamo, e non dovevano essere... dove si sono trovati stamattina in sostanza. Al momento ci sono accertamenti in corso. Spetterà ora il personale dello Spisal far luce su quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità sul grave infortunio.